bravissima una che ascolta ogni tanto di bocca la prossima volta mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando ma stai vieni su è stata più ubbidiente la tua amica ecco ecco ok ok 028 di nylon ragazzi quanto due lanci tanto per farli non ok 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 Grazie a tutti.